Alcadrillo! Che stiamo facendo? Voi non farete niente. Io tenderò un agguato al mio arci nemico Aquilator. Ehm, Aquilator? Non mi dice niente. Il mio nemico per la pelle che si è allenato con me, il mio sensei che poi ha tradito il dojo e si è rivelato cattivo e ora vuole battervi per dimostrare di essere il guerriero migliore. L'ultima volta ha rubato i miei occhiali, poi ha preso a pugni tutti voi e tu, Nikiti, l'hai spinto giù da una scogliera. Suona vagamente familiare. Beh, non si fa vedere da un po'. Quindi starà preparando un superattacco contro di me. Ecco ti finalmente, Aquilator! Non ti è bastato, Aquilator? La mia arci nemica! Arci nemica? Chi crede di essere? Io sono Fenitarta! Ripensa a questa sconfitta quando vorrai sfidare di nuovo. Fenitarta! Ci hai provato, ma ti ho spennato. Lui è il mio rivale! Quella mi ha soffiato il rivale! Aquilator, che succede? Oh, ciao, Falcondrillo, ecco. È imbarazzante, ma ormai ho una nuova avversaria. Che cosa? Ma noi due siamo nemici per la pelle! Lotteremo fino alla fine dei tempi e oltre! Quella è acqua passata, ora mi interessa solo Fenitarta. Quindi... Stammi bene! Aquilator! Oh, è incredibile! Sono stato rimpiazzato! Mi dispiace, Falcondrillo. Ehi, sarò io la tua nuova rivale! So fare... E i versi tipo... No, non sarebbe lo stesso! Tra me e lui c'era una rivalità eterna! O almeno così credevo! Oh, non buttarti giù! Vedrai che con il nostro aiuto tornerete ad essere nemici in un baleno! Quello che devi fare è attirare l'attenzione di Aquilator! Oh! Prepariamogli un bel pacco regalo da guerriero! Che genere di cose ama? Vediamo! Gli spadoni! Forte! In un ciacu! I tirapugni! Gli esplosini! Mettiamo la carta velina e decoriamo la scatola con un grande fiocco! Poi scrivi un biglietto per dirgli che non vedi l'ora di riaverlo come nemico! Fatto! Ti detesto! Lo lascerà senza fiato! Allora come faceva? Cocò! Cocò! Finitarta sei tu! Questi regali sono... perfetti!